Le notizie di Senigallia Web TV. Mercoledì 27 di luglio. La Guardia di Finanza di Falconara Marittima ha sequestrato a Falconara e Montemarciano 839 capi di abbigliamento e sanzionato 3 ambulanti abusivi. I 3, tutti di origine extracomunitaria, sono risultati sprovvisti delle autorizzazioni per la vendita in forma ambulante rilasciate dal comune e dall'autorità marittima. Sono stati così sanzionati per abusivismo commerciale con una multa pari a 15.000 euro. In migliaia hanno affollato la nuova piazza Garibaldi di Senigallia ieri sera, martedì, in occasione della festa di inaugurazione della piazza ritrovata. A salutare la riapertura al pubblico della piazza è stato il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Roberto Granata. Il suo vasto repertorio, considerato tra i più completi rappresentativi, annovera pagine di autori classici accanto a composizioni originali per orchestra di fiati di autori moderni e contemporanei. Particolarmente suggestivo è stato l'omaggio che la banda della Polizia ha dedicato a Degno Morricone, eseguendo le più celebri composizioni del grande maestro. In contemporanea con l'inaugurazione, presso il cippo al patriota Simoncelli, si è svolta l'iniziativa organizzata da alcune associazioni cittadine fortemente critica nei confronti delle scelte compiute dall'amministrazione comunale che ha inteso omaggiare due autocrati papali con altrettanti stemmi. Per prendere una posizione di contrasto alle iniziative del sindaco che ha voluto utilizzare Piazza Garibaldi per dare omaggio a due autocrati, due papi, che veramente nulla hanno a che vedere con la nostra Repubblica, una Repubblica laica e democratica. Per cui non siamo entrati nel merito del tipo di piazza che è stata fatta, della scelta architettonica. E proprio abbiamo voluto contrastare questi simboli perché crediamo che questa cosa non doveva essere fatta proprio per queste ragioni. Festival Organistico Internazionale, quindicesima edizione. Giovedì 28 la Chiesa del Portone sarà l'organista tedesco Franz Auck a esibirsi in una serata dal titolo Le Grandi Opere per organo di Johann Sebastian Bach. Sabato 30 sarà invece il momento della seconda trasferta, questa volta a Corinaldo, dove il festival offrirà una serata assolutamente inedita. Presso la Chiesa della Croce di Senigallia, questa sera 27 alle 21, Luigi Conti, pittore del primo 800 nelle Marche Centrali, sarà al centro di una conferenza tenuta dallo storico d'arte Donato Mori, già gradito ospite della confraternita nelle serate culturali estive. Il 29 di luglio invece la visita alla preziosa Sala del Tesoro, antico luogo dove vengono custodite le reliquie della vera Croce di Cristo e del velo della Madonna. Terza edizione di Danza Mare, stage formativo promosso dalla Scuola Danza in Scena di Senigallia. Venerdì 29 luglio, grande serata di gala al Teatro La Fenice. La serata che vedrà come ospite d'eccezione il celebre ballerino e coreografo Fabrizio Mainini sarà dedicata all'indimenticata Maria Luisa Roncucci, fondatrice insegnante dell'Associazione Danza in Scena, in occasione del quarto anniversario dalla sua prematura scomparsa. Il ricavato della serata sarà devoluto a Laos. Danza Mare è uno stage altamente formativo riguardo al mondo della danza classica e contemporanea. È giunto quest'anno alla sua terza edizione, ha uno scopo assolutamente benefico perché tutto il ricavato viene devoluto a Laos, all'Associazione Oncologica, in memoria di una amica che è Maria Luisa Roncucci. Ho qui con me una delle docenti del nostro stage, quindi una delle protagoniste assolute della settimana. Allora, intanto io non posso che augurare un futuro bellissimo questa manifestazione ideata da Alessia Primavera e dire che tutti i giovani e tutti i docenti che arrivano a Danza Mare contribuiscono non solo alla crescita di un'arte così bella come la danza, ma soprattutto anche di una causa umanitaria e benefica, strepitosa. Quindi grazie a tutti. Ed eccoci alle condizioni del tempo sulle Marche di giovedì 28. Cielo attesa una certa variabilità, con la nuvolosità più diffusa e stratificata sia nella prima parte della giornata sia nel corso delle ore centrali pomeridiane. Precipitazioni attese di residui in esaurimento nel corso della mattinata, poi di nuovo a riproporsi nel pomeriggio. I venti deboli a disporsi da sud-ovest sull'entroterra, le temperature stabili. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito. A domani.